ben tornato fede giorgi un compito arduo ha detto il patron giulinelli chi te l'ha fatto fare intanto un buona responsabilità del suo perché mi ha chiamato quindi noi sono molto contento di essere tornato come detto in precedenza c'è un legame con questo club e con questa terra che va da tra lo sportivo diciamo e familiare quindi quando ho avuto diciamo questa possibilità ci ho pensato in modo molto concreto devo dire anche la voglia di dopo tanti anni all'estero di tornare diciamo esperienze bella importante che mi ha completato ancora di più come allenatore perché le esperienze all'estero veramente ti aiutano ad aprire la mente quindi diciamo ero pronto per tornare ero pronto per tornare nel 2005 ti era stato chiesto di vincere adesso cosa ti ha chiesto la proprietà no bene nel 2005 ad essere onesti abbiamo iniziato un programma triennale e il primo anno purtroppo abbiamo anticipato troppo abbiamo abbiamo siamo riusciti a vincere questo scudetto noi siamo io sono tornato perché qui c'è un club è una squadra molto forte fatta da giocatori importanti e quindi c'è la possibilità di giocarsela per vincere con tutti questo però veramente non è una cosa matematica perché quest'anno ci sono squadre forti il campionato è molto forte quindi l'obiettivo è quello di di crescere sotto tutti i punti di vista e valorizzare le cose insomma che abbiamo renderle soprattutto quelle buone poi migliorare negli altri aspetti nei quali ancora probabilmente si fa un po di fatica come hai trovato i ragazzi cosa hai detto loro sono diciamo motivati hanno voglia di di reagire chiaramente gli impegni sono tanti quindi bisogna essere abbastanza bravi insomma programmare che si giocano tenamente tante partite quindi tempi di recupero lavoro e quindi diciamo che c'è voglia di di rivincita di fare delle cose buone non ho fatto tanti discorsi nel senso che alla fine molto conta quello che facciamo come oggi avevamo la possibilità di fare un allenamento completo quindi è più la cosa pratica sul campo che è più importante molto delle parole di quello che possiamo dire un tempo in cui ti sei dato per vedere la tua lube a un tempo qua i tempi mi sembrano abbastanza stretti da quello che ho capito quindi qua ogni giorno dobbiamo vedere di fare qualche passo avanti non è non è che metto dei limiti il mestiere allenatore è un paradosso perché devi programmare ma immediatamente avere qualche cosa quindi lavoriamo io voglio dare delle priorità su alcuni aspetti che sono tecnici e caratteriali sulle cose più importanti perché non si può pensare a troppe cose e man mano puoi aggiungere altre cose quindi lavoriamo su un paio di situazioni che possono essere di squadra situazioni anche che hanno l'aspetto diciamo emozionale reattivo e su queste vediamo di avere subito qualche qualche cosa positiva da questo punto di vista